e buonasera in un formato straordinario addirittura a mezzo busto per un video velocissimo caricato realmente al volo fatto abbraccio più del solito perché stasera si parla di fac cioè quelle domande ricorrenti che sono saltate fuori in mezzo ai commenti che avete lasciato quelli buoni commenti furbi che avete lasciato ai nostri tre video sui cavi d'alimentazione mi rendo conto che forse sono stato un po troppo rapido su qualche dettaglio che poi è saltato fuori più e più volte quindi adesso due minuti per tornarci su e vediamo di capirci bene su quello che intendevo a vantaggio di quelli che non hanno capito e magari di quelli che hanno capito si faranno un'idea ancora più chiara cominciamo subito con le domande che sono saltate fuori in modo più insistente la prima la prima vince assolutamente su tutte di parecchie lunghezze è ma santa polenta perché devo cambiare un metro e mezzo di cavo di alimentazione se ho un impianto di casa che fa schifo cablato con un cavo che non vale niente con i contatori con i magnetotermici con i differenziali con le prese che fanno paura con il frullatore della cucina collegato giusto osservazione assolutamente corretta se avete un impianto di casa che fa schifo pieno di disturbi che da poca corrente è assolutamente inutile che voi spendiate i soldi per un buon cavo di alimentazione punto e su questo mi fa piacere che ci intendiamo subito il cavo di alimentazione non guarisce un impianto che non funziona non guarisce un impianto elettrico che non funziona non guarisce un impianto audio che non funziona ok il cavo di alimentazione può solo evitare di far casini punto è il massimo che può fare il punto era i cavi di alimentazione da due soldi fanno talmente tanti casini che riescono anche a peggiorare quello che il pur schifoso impianto di casa può dare tutte quelle interazioni fra il cavo di alimentazione e l'alimentatore dei nostri apparati che abbiamo visto che abbiamo anche misurato in quel video che ho fatto passare su facebook al volo magari vi lascio sotto il link per andare a vedere ecco tutte quelle interazioni ci sono anche con tutto l'intero impianto di casa questo è ovvio naturalmente man mano che ci allontaniamo dalla nostra elettronica le interazioni si fanno sempre meno dirette sempre meno prevedibili sempre meno misurabili ma anche il lato buono della situazione diventano sempre un pochino meno importanti comunque alla base di tutto questo se l'impianto elettrico di casa fa schifo è inutile che lavoriate sui cavi tutti i discorsi che facciamo sui cavi sono validi se alla vostra presa d'alimentazione avete qualcosa che mediamente funziona in maniera accettabile l'ideale è chiaro è eliminare o comunque minimizzare l'influenza dell'impianto elettrico di casa vostra sull'impianto cioè utilizzare un buon filtro di rete utilizzare un buon condizionatore di rete anche su questo punto torneremo con essendo più precisi con degli altri video quello che vi posso dire su due piedi è anche perché devo fare pubblicità le mie cose lo sapete benissimo poi vi darò le giustificazioni di quello che dico con gli apparecchi gigawatts soprattutto la serie pc le influenze del vostro impianto elettrico per quanto schifoso sull'impianto sono effettivamente minimizzate in modo buono e genuino ok per cui ammettendo di avere un apparecchio del genere allora diventa molto importante curare il cavo di connessione fra il nostro condizionatore di rete barra filtro barra ciabatta filtrata è il nostro impianto se avete una montagna di interferenze la corrente ballerina i cavi marce nell'impianto di casa cominciate a mettere a posto quelle cose lì e poi parliamo di cavi di alimentazione il nostro video sui cavi di alimentazione non voleva proporre una panacea per tutti i mali voleva solamente riportare osservare un'interazione fra il cavo d'alimentazione e l'apparecchio alimentato punto ok non si parlava di tutto resto semplicemente perché non era argomento era solamente un ragionamento limitato al cavo di alimentazione e la correlazione che c'è fra il comportamento in frequenza di questo cavo e l'apparecchio alimentato chiuso ecco perché tutti gli altri dettagli non sono venuti fuori un'altra osservazione che è saltata fuori un paio di volte è ma se io metto un buon cavo di alimentazione poi però ho il collo di bottiglia dei fusibili adesso vi dico delle cose teoriche e poi vi dico quelle pratiche le cose teoriche sono i fusibili sono un'aronia la contattiera del porta fusibili ha dei limiti di resistenza di contatto come li hanno le prese pessime molto spesso questi porta fusibili sono brutti negli apparecchi anche in apparecchi costosi mi spiace dirlo sono brutti e fanno contatto male cosa succede succede che se io tolgo il mio fusibile standard metto un fusibile di buona qualità ecco non voglio entrare in altri dettagli pulisco bene i contatti li disossido bene con un prodottino adeguato lo rimonto il mio apparecchio tende a suonare un po meglio sotto vari aspetti allora facciamo finta di niente togliamo di questi fusibili che danno problemi ponticelliamo tiriamo dritto e eliminiamo il fusibile si tutto bene avete eliminato tutte le rogne del fusibile il problema della resistenza non lineare della distorsione della forma d'onda di alimentazione che genera il fusibile avete eliminato tutto con un colpo di spugna ma non state più proteggendo il vostro apparecchio se per caso capita un cortocircuito o qualcosa di strano all'interno del vostro apparecchio una fiammata risalta tutto per aria cosa molto brutta quindi il mio consiglio personale è al di là di tutta la teoria sul fatto che eliminare i fusibili fa suonare meglio gli apparecchi non li eliminate perché diventa pericoloso al limite se volete trovate dei fusibili fatti apposta per l'audio non entro nel merito ce ne sono diversi ne trovate anche sul nostro sito spesso tendono a colorare poco o tanto il suono quindi prima di spendere 20 e 30 euro per un fusibile che già è una bella spesa per un fusibile ragionateci sopra un attimo e se siete in grado magari piuttosto pulite bene la contattiera se non avete qualcuno che vi possa consigliare sul fusibile giusto da mettere nel vostro apparecchio però non fate il colpo di testa di togliere i fusibili to cure perché non va bene è pericoloso e rischia di creare danni ancora più gravi di quelli che potrebbe curare un'osservazione che è stata fatta ma visto che l'alimentazione crea tutti questi problemi fa così schifo è così critica soltanto i punti di vista perché non alimentiamo le nostre apparecchia batteria grande ottimo fantastico alimentare le apparecchia batteria se l'alimentatore batteria è fatto bene avete un avete risolto dei dei degli enormi problemi funziona molto bene è solo che di solito è poco pratico è poco non è molto comodo avere l'intero impianto alimentato batteria perché le batterie poi alla fine sono ingombranti perché ci vanno i relativi cariche batterie perché bisogna di caricare batterie bisogna bisogna farli bene e poi alla fine un apparecchio alimentato realmente bene batteria diventa molto costoso quindi commercialmente troverete pochissimi apparecchi alimentati batterie sul mercato costruzioni custom alcuni apparecchi di livello molto alto quindi molto costosi di conseguenza costruzioni artigianali diversi a c'è a diversi livelli in diversi modi adottano l'alimentazione batteria personalmente nelle mie auto costruzioni di tanti anni fa ho fatto delle cose batteria anche folli fino a fare un preamplificatore con la nodica 140 volt circa generati da 12 batterie da 12 volt in serie una pratica una sedia elettrica ecco però i risultati al di là del fatto che era una roba pericolosissima che non consiglierei a nessuno i risultati erano spettacolari mai sentito un preamplificatore a valvole così silenzioso non un ronzio non un fruscio niente di niente l'alimentatore era un metro e mezzo quadrato bisognava avere l'accortezza di non far bruciare la casa quando lo si usava ma questi sono dettagli di poco conto quando uno si costruisce le cose sperimenta e traffica stessa cosa l'avevo fatta per alimentare un finalino in classe a a transistor con una batteria di un camion mi ricordo che l'amplificatorino aveva appunto la batteria di un camion come sorgente d'alimentazione è giusto per abbassare l'impedenza di alimentazione quasi un farad di capacità quindi alimentazione a batteria grande cosa purché sia fatta bene purché uno voglia sopportare le scomodità grande cosa un'ultima considerazione che è stata fatta e ma allora scusatemi visto che sempre appunto la rete fa schifo eccetera eccetera perché non alimentiamo impianto con un gruppo di continuità adesso ci sono dei gruppi di continuità di alta qualità per apparecchiature di laboratori elettromedicali che restituiscono una forma d'onda sinusoidale praticamente perfetta prima di disturbi prima di distorsione bla 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 ok fantastico benissimo ma ricordiamoci il disegnino con i picchi di assorbimento in corrente dei nostri apparati è se guardate il video che ho fatto per youtube anche se è bruttissimo fatto col cellulare in 448 vedete che la forma d'onda della corrente di alimentazione influenza è brutta già di per sé è una cosa brutta ma in più è influenzata dal segnale musicale cosa vuol dire che viene richiesta alla rete della corrente con l'andamento del segnale che io devo amplificare quindi l'andamento della nostra musica cosa vuol dire questo segnale verrà richiesto a un gruppo di continuità questo gruppo di continuità è progettato per alimentare apparecchiatori laboratorio computer cose del genere quindi sì con tutte cose che hanno requisiti e alimentatori totalmente diversi da quelli che usiamo per l'audio il risultato tipicamente almeno per le prove che ho potuto fare con degli apc con delle macchine che mi capitavano per per le mani è che a queste richieste impulsive di corrente questi gruppi di continuità non sanno rispondere non le sanno gestire anzi il sistema che genera la forma d'onda patisce particolarmente e in presenza di queste richieste fra virgolette strane tende a generare una forma d'onda molto distorta questo per quanto riguarda la parte tecnica al lato pratico il suono dell'impianto non ne trae giovamento anzi di solito ne trae un discreto danno con mancanza di dinamica con sporcizia diffusa gli unici casi in cui ho visto un impianto andare meglio con un gruppo di continuità che non senza era quando la tensione di rete era talmente tragica talmente bassa talmente brutta che qualunque cosa sarebbe andato comunque meglio però in situazioni non critiche meglio non usare una roba del genere perché fate solamente del danno a meno che non siano apparecchi progettati per uso audio per quanto riguarda quel tipo di apparecchi per uso audio ci sono alcune cose in giro quella che la mia esperienza in merito non è positiva di solito i risultati non sono mai stati migliorativi sotto tutti i punti di vista c'è sempre stato qualche problema che sorgeva io di solito non consiglio questo tipo di apparecchi a meno che non ci siano problemi di alimentazione veramente pesanti per cui cadute di tensione di decine di volt oscillazioni veramente importanti non tanto nell'arco della giornata è fisiologico ma nel giro proprio di pochi minuti ecco tutte cose che possono creare comunque problemi di funzionalità anche all'impianto quindi apparecchi che si spengono apparecchi che vanno in protezione cose del genere per tutto il resto io preferisco utilizzare altri metodi ma sarò più preciso a riguardo faremo un'analisi un pochino più dettagliata nella serie di video dedicati proprio ai filtri di rete condizionatori arriveranno nelle prossime settimane appena riesco a registrarli a metterli insieme direi che con questo abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire circa le domande più frequenti che mi sono state risolte vi ringrazio per avermi seguito vi ringrazio perché in molti vi state iscrivendo al mio canale in molti state lasciando il like alla pagina facebook e questo non può che farmi piacere andate a mente così se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciatevi un like sulla pagina facebook vi sarò molto grato spargete la voce condividete il video se vi è sembrato utile commentate in maniera civile possibilmente se non commentate in maniera civile io rimuoverò i commenti perché non mi piace franca io lo so non bisogna farlo sui social non è bello non mi interessa a me non piace vedere volgarità e stupidaggini sulla mia pagina penso che quelli che vengono sulla mia pagina condividano questo mio punto di vista per cui le cose fuori luogo eccessive volgari mi riservo di toglierle per tutto il resto sono a vostra disposizione grazie per la pazienza grazie per aver guardato il video e alla prossima